Nell'ambito della ventesima giornata nazionale Amici dei Musei e seconda a livello europeo, il sodalizio territoriale ionico lo scorso 8 ottobre ha organizzato un interessante convegno dal titolo Paesaggio vissuto, paesaggio rappresentato, Masseria Mastuola, una storia affascinante. Ed è stata proprio la Masseria del 1400, ubicata all'interno dell'agro di Crispiano, ad ospitare il momento di approfondimento la cui finalità è stata quella di far riflettere il volontariato culturale sul tema del paesaggio sempre più minacciato dal cambiamento climatico. Ad introdurre i lavori la professoressa Patrizia De Luca, presidente dell'Associazione Amici dei Musei, sezione di Taranto. Oggi in 70 città italiane sarà declinato il tema del paesaggio in maniera diversa ovviamente in rapporto ai contesti territoriali. E' un tema di urgentissima attualità perché il cambiamento climatico ha portato ad una situazione emergenziale per quanto riguarda il patrimonio storico-artistico e lo stesso paesaggio che è un bene culturale complesso, che è l'espressione culturale storica alla memoria di un territorio. Ecco perché il volontariato culturale deve riflettere su questo argomento. La dottoressa Annalisa Biffino ha tratteggiato la storia dell'area della Mastuola dall'età del bronzo all'età tardo-antica. Se consideriamo che per la Convenzione europea del paesaggio, il paesaggio è anche quello che è percepito dalle comunità locali, io penso che raccontare, nel mio caso, i diversi paesaggi storici che si sono succeduti nel tempo, le cui tracce si conservano nel paesaggio attuale, è fondamentale anche proprio per raccontare il territorio e avvicinare le comunità. La storia della masseria al tempo della famiglia Dayala è stato l'argomento approfondito dalla dottoressa Mariolina Alfonsetti. Intanto l'azienda Dayala, l'azienda del Marchese Dayala-Valva in particolare, è stato molto produttivo. L'attenzione soprattutto alla terra, l'attaccamento e la dedizione di questi esponenti della famiglia Dayala-Valva e viene evidenziata anche dai documenti di archivio che sono stati consultati per questo incontro. Quindi la loro competenza, la loro capacità di gestire un patrimonio così vasto ha fatto sì che la loro famiglia fosse la rappresentante del capitalismo agrario tarantino. A relazionare anche il dottor Vincenzo Greco che si è soffermato sull'evoluzione architettonica della masseria.